Riccardo Paganelli, seconda partita dopo l'infortunio, secondo me sei un po' in ritardo di condizione, comunque hai trovato il gol, come ti senti? Sì, a parte la condizione ancora, anche poi il campo pesante non mi aiuta perché proviamo l'adduttore, ancora sono un po' riesido e si fa sentire, va bene, quel che posso fare lo do e metto a disposizione, oggi è andata bene, siamo andati bene tutti. Come ti senti completamente ristabilito? Completamente, ti dico sinceramente, no, ho avuto un miglioramento grosso stasettimana qui, gliel'ho detto, ho fatto presente, mi sentivo meglio, ancora un po' rigido, normalmente il campo non mi aiuta, però lavoro tutti i giorni, ho tanto da lavorare, recuperare, va bene, comunque sono contento, sono contento. Poi il gol è la migliore medicina, no? Sì, guarda, mi mette il sorriso, veramente, manchiava, la vittoria è soprattutto importantissima, potete entrare con una vittoria bellissima, minchiavo. Diciamo che il 50% del gol però da condividere con Bougar, Bougar, mi stanno in croce, anche col portiere, dai, 33, 33, 33, 33. Secondo te dove può arrivare questa squadra che li sta spesso da fuori in ultimo? Allora, io credo tanto nella squadra, come cominciamo a crederci tutti i miei compagni, siamo un bel gruppo e con delle grandi qualità, credo tanto nella squadra, vediamo dove può arrivare, domenica per domenica. Pronti per San Benedetto che ha preso una partita molto sentita? Sì, ci prepariamo già da martedì, subito a San Benedetto, la prepariamo bene col mister, carichi sì. Grazie.